Perugia e Frosinone si annullano mai anche la giusta fotografia che arriva dalla vetta della classifica di prima divisione. Gli Umbri sono campioni d'inverno, i Ciociari restano gli avversari più temibili per il primo posto. Intanto il sorpasso nello scontro diretto della diciassettesima giornata non avviene anche se Daniel Ciofani dopo due minuti porta in vantaggio il Frosinone. Da un ex all'altro ci pensa Mazzeo con una conclusione imprendibile a riprendere la sua ex squadra. Pareggio che a conti fatti viene salutato come un mezzo successo da entrambe. Perugia e Frosinone allungano di un punto sul Catanzaro che incassa la prima sconfitta casalinga della stagione per mano dell'Aquila che torna alla vittoria dopo tre stop consecutivi. Risultato che un altro ex di questa domenica, De Sousa, sblocca sul calcio di rigore fatto ripetere con annessa ammunizione per le troppe finte sul primo tentativo. Calabresi che restano in dieci per l'espulsione di Ferraro e l'Aquila che può controllare la gara sino al raddoppio al 35esimo della ripresa firmato da Infantino in contropiede. Frena, o se si preferisce Frana, il Pisa. La sconfitta nel derby contro il Viareggio potrebbe costare la panchina a Pagliari. Nerazzurri di casa senza vittorie da due mesi e puniti da Vannucchi al 43esimo del secondo tempo. Ringrazia anche il Lecce che ha osservato il turno di riposo. Salentini che restano in piena zona playoff, agganciati a quota 24 da un Benevento che risponde alla contestazione della tifoseria con il largo successo contro il Prato, scavalcato anche in classifica. Bastano quattro minuti ad Altinier per rompere l'equilibrio e passano altri quattro minuti dopo l'inizio della ripresa perché Evacuo chiuda i giochi. In pieno recupero Mancosu firma il 3-0 che rappresenta anche l'unica vittoria casalinga di questa giornata. Segnata dai pareggi, ricco di gol ed emozioni è quello tra Gubbio e Pontedera. Toscani che ripetono quanto fatto a Barletta nel recupero di mercoledì scorso. Vanno avanti di due gol con Grassi, vantaggio nel finale del primo tempo e raddoppio su rigore al dodicesimo della ripresa, ma si fanno riacciuffare negli ultimi 12 minuti di partita da un Gubbio rimasto in dieci per l'espulsione di Boasferra. Lupalini di mezzo il conto, Longobardi in pieno recupero riacciuffa un punto insperato per gli Umbri. Il finale è propizio anche per la Salernitana, il cui pareggio con la Paganese vale quanto una sconfitta. Guazzo fallisce il rigore del possibile 1-0 al diciottesimo del primo tempo. Beretta, in chiusura di tempo, premia l'organizzazione della Paganese firmando il vantaggio. Ad un minuto dal termine della gara, Mancini evita la quinta sconfitta casalinga per i Granata, ma non la furia del presidente Mezzaroma. Pareggiano anche Nocerina e Ascoli, i cui guai restano almeno per 90 minuti fuori dallo stadio. Ficarrotta porta in vantaggio i Campani, ma ci pensa Carpani a riacciuffarli in una prima volta al dodicesimo della ripresa. Sabbione firma il nuovo vantaggio a Nocerino, ma è Tripoli a ristabilire l'equilibrio dopo due minuti, che resta tale anche perché Tripoli ancora nel finale sbaglia il rigore del possibile successo per l'Ascoli, la cui principale vittoria è stata quella di andare in campo dopo il fallimento della società avvenuto ad inizio settimana.